Siamo molto felici di essere qua con i nostri due principali veicoli della gamma, il F-MAX, il trattore ormai in commercio da un po' di anni in Italia e il nuovissimo F-Line trattore della gamma trattori e motrici, nuovissima presentata al Transpotec adesso. Siamo qui a Test Drive, abbiamo avuto parecchi consensi e anche parecchia partecipazione di cui siamo veramente fieri e siamo anche ormai da anni sponsor del campionato ETRC con il nostro Pace Track che ogni volta accompagna la gara partendo insieme ai corridori. Devo dire una macchina veramente al di sopra delle aspettative, una macchina di nuova concezione, un buon abitacolo, veramente molto abitabile, un motore veramente reattivo. Una bella guida, una buona ripresa, un buon motore diciamo, molto elastico, un bel cambio. Molto bello, confortevole, una bella linea, una bellissima esperienza. Grazie a tutti.